Come le formiche hanno la fama di essere laboriose, anche la catena di Vendilo è ben organizzata e molto efficiente. Il nostro obiettivo è massimizzare le vendite di prodotti su internet creando nuovi alternativi canali di acquisizione clienti in Italia e nel mondo. Gestiamo le vendite di piccole, medie e grandi aziende, offrendo soluzioni strategiche finalizzate alla commercializzazione di prodotti di tutte le categorie. Noi di Vendilo raggiungiamo sempre il nostro obiettivo. Vendilo Andria, una realtà importante sul nostro territorio. Vendilo Andria, una realtà importante sul nostro territorio.